Un bonus di 1000 euro all'anno per tutti i lavoratori, pensionati e quelli che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Rivedere il tetto massimo della tassazione nazionale e locale, rimodulare la tassazione sugli immobili con l'esenzione completa per la prima casa, ma anche una concreta lotta all'evasione fiscale e la creazione di un nuovo assegno familiare. Sono questi i cinque obiettivi principali del progetto di legge d'iniziativa popolare della CISL che ha avviato una raccolta di firme in Campania. Alla conferenza stampa di presentazione il segretario regionale della CISL, Lina Lucci, che spiega chi è rivolta all'iniziativa, in particolare quella legata al bonus di 1000 euro e all'assegno familiare. Riguarderebbe 38 milioni e mezzo di italiani che hanno un reddito annuo di 40 mila euro. Siccome però il bonus è un bonus progressivo, significa che al crescere del reddito diminuisce, quindi è una platea molto vasta. Sull'assegno familiare andiamo, per dirla in poche parole, andiamo ad un assegno familiare che rivisiti tutto quello che c'è e che tenga dentro due concetti fondamentali. Il carico familiare. Guardiamo al carico familiare e diamo di più a chi ha più necessità. La ricetta, secondo Lallucci, per trovare le risorse economiche necessarie è quella di chiedere un contributo morale alle famiglie benestanti. A quelle famiglie che hanno un patrimonio mobiliare e immobiliare che va oltre i 500 mila euro netti, noi chiediamo nella parte eccedente, i 500 mila euro fino agli 800 mila euro, un contributo dell'1 per mille. A quelle famiglie che hanno un patrimonio tra gli 800 mila euro e il milione di euro chiediamo un contributo del 2 per mille, a quelle che hanno oltre il milione di euro un contributo del 7 per mille. Credo che sia un fatto dignitoso e credo che è un sacrificio che si possa fare. ...e come dire, diventa... ...e come dire, diventa... ...e come dire, tre per dire, diventa...